Ciao a tutti ragazzi, qui è Archivi Parla, la traccia ci ha finalmente rilasciato moltissime informazioni perché ci hanno dato le nuove patch notes per questo update del 5 di novembre, veramente molto grosso con tantissimi dettagli, e in aggiunta il blog di Activision per spiegare come funzioneranno le ricompense e il mercato nero da adesso in poi su Black Ops 4, ci sono notizie veramente molto molto importanti, immagino come sempre per tutti i giocatori, quindi molti giocatori, Blackout, ma specialmente per noi di zombie, infatti io tratterò soltanto le informazioni che interessano a noi. Quindi arrivando a zombie abbiamo finalmente quell'update veramente grosso che risolve veramente tantissimi tantissimi problemi. Per primo l'errore che c'è su Takder Totten alla fine dell'easter egg durante la cutscene, che ci butta fuori e non ci permette di ottenere come al solito l'obiettivo, il trofeo e in generale completare l'ultima cutscene per il finale della storia etere. Inoltre ci sono tantissimi bug fixes per quanto riguarda sicuramente l'ammetica diamante da Elion Salvo che non si sbloccava e bloccava moltissime persone da sbloccare a Dark Matter, che dopo mesi di lavoro magari con tutte le kill, colpi alla testa, uccisi senza perche e tutto il resto, è veramente molto molto frustrante. L'ha poi finalmente sistemato Dying Wish, ultimo desiderio che non funziona come si deve, e molte altre cose. Tra poco vedremo anche in dettaglio tutte le patch notes. In più ovviamente su PS4 sono arrivate delle nuove armi con l'inizio di quella che sarebbe non proprio una prossima operazione, ma tutto il prossimo sistema del mercato nero per le ricompense che vedremo a brevissimo, e inoltre il nuovo gauntlet A Nice Day in Hell, l'ultimo gauntlet immagino di Black Ops 4 per Takder Totten. Passando alla grande notizia del mercato nero, ci sono tantissime tantissime ricompense nuove, in tutto 280 presenti nel mercato nero, ovviamente per adesso è soltanto il 5 di novembre solo su PS4, tra una settimana chiaramente arriverà tutto anche su Xbox, quindi la nuova arma micro MG 9mm, una nuova arma corpo a corpo chiamata Eye of Half Office. Un'altra cosa molto interessante è il personaggio di Black Ops, che sarebbe il ladro del Pentagono, che c'era A5 di Black Ops 1, veramente bellissimo, poi 9 metiche per le armi, metiche reattive, outfit leggendari rari, dead effects, weapon charts, tantissime tantissime cose che possono interessare o non possono interessare noi giocatori di zombie. Andando qui a vedere nel dettaglio il blog di Activision, ci spiegano un pochino come sistemeranno tutto il sistema di Black Ops 4 per le ricompense, che sono ovviamente molte dietro le riserve, ci sono anche le Ultra Weapon Bride, però ci sarebbe anche il Blackjack Shop a pagamento, e tantissime altre ricompense o contenuti bloccati o dietro un paywall direttamente, o comunque è molto più facile andare a comprare tantissime casse che siano con o senza doppioni, per avere tutte le ricompense, gli oggetti che ci interessano. Quindi d'ora in poi potremo ottenere una Pika Weapon Bride, che con 50 riserve accumulate potremo comprare una Weapon Bride che ci darà un'arma a nostra scelta di quelle che non abbiamo, e inoltre ci darà le solite due riserve casuali, come adesso aprire una Weapon Bride, tipo alla fine di un'operazione. Quindi facendo 50 riserve che richiedono comunque un tot di tempo, perché tra contratti e skip giornalieri, se facciamo tipo 2-3 riserve al giorno, richiederanno, facciamo un mesetto arrotondando, di skip giornalieri su zombie, quindi fare i soliti 20 round, oppure la partita singola su molti giocatori che sia una vittoria, e il singolo merito per Blackout, per avere almeno uno di questo skip giornaliero che dà solitamente una riserva, e in più i contratti che possono essere o veloci o corti, darci su zombie o plasma, o se siamo fortunati, un contratto o due. Quindi richiederà comunque molto tempo, però una volta arrivati a 50 potremo finalmente scegliere un'arma che non abbiamo, e se magari nel mio caso me ne mancano soltanto 2-3 che sono mancate perché ne ha messe davvero tante, si può fare relativamente in fretta. Io non credo che andrò a farlo, di recente finalmente ha finito l'ultimissimo mercato nero di questa operazione, proprio qualche giorno fa prima che si concludesse, almeno su PS4, quindi sono molto contento del mio risultato, anche se è stato veramente terribile, specialmente l'ultimo paio di operazioni, perché dopo un po' fare gli stessi skip, specialmente quel periodo in cui la rotazione era davvero pessima per le mappe, non c'era né Alpha Omega né Tag der Totten, dopo un po' risultava veramente molto molto fastidioso, e mi mancano soltanto, se non sbaglio, dovrebbe essere due armi, nell'ultima Weapon Bride ho trovato l'N94, e quelle che mi mancano non mi interessano troppo, quindi non penso che andrò a fare, almeno per adesso, altri skip come ho fatto per tutto l'anno precedente, però non si sa mai che magari voglia completare tutte le altre armi che mi mancano, quindi ottenere Dark Matter sulle armi secondarie del mercato nero, fare tutti gli accessori, le solite cose. Inoltre quando poi ci saranno rotazioni aggiuntive per i My Deals o tutti gli oggetti che si trovano nel Blackjack Shop, per dare la possibilità di trovare tutti quegli oggetti, ovviamente a pagamento con i Code Points, che ancora non possiamo trovare, che sono molto casuali, vanno nella solita rotazione o giornaliera o settimanale, quindi per chi vuole comprarli sarà un po' più facile. Quindi queste sono tutte le novità per le ricompense del mercato nero, che ci interessano un pochino a noi giocatori di Zombie, però chiaramente è sempre stata una cosa un pochino più secondaria, dato che moltissime ricompense, specialmente nelle riserve, sono Obes da Visita o Emblemi, che sono ovviamente qualcosa di secondario per tutti i giocatori, però specialmente anche tutte le skin nematiche e facciali sono solitamente per o gli specialisti di Blackout o i personaggi comunque del multigiocatore, tutti quelli lì, e su Zombie è molto molto più raro, o comunque non è che ci interessi troppo alla fine. Per questo passiamo invece alle pagine nostre nel dettaglio, come ho detto prima, ha risolto finalmente il problema alla fine di Tag der Toten dell'Easter Egg, che ha bloccato veramente tantissimi giocatori. Hanno inoltre, a quanto pare, fatto diversi update per Tag der Toten, specialmente aumentati i colpi di riserva della Tundra, che hanno messo anche tutte le skin per le Matrioshka, è quello davvero bello, se non sbaglio hanno aumentato il tempo di esplosione delle Matrioshka, però fanno molte più esplosioni. Il resto delle patch notes che vedete dopo sono molto più generali, che sono tipo o errori di audio o errori grafici, quindi un po' più secondari. Vedo qua alla fine che hanno finalmente baffato leggermente il balistico, che possiamo finalmente recuperare i colpi sparati una volta potenziato, baffata anche leggermente la balestra River C86, e sistemato il Mog 12 che aveva qualche problema. Come ho detto prima, ha finalmente sistemato il problema dell'Elon Salvo, su cui non si sbloccava la Diamante, che immagino che moltissime persone l'abbiano fatta come ultima arma, nonostante sia una delle più potenti, però chiaramente bloccare la Diamante di un'arma, blocca Dark Matter per tutto il resto. Finalmente sistemato Ultimo Desiderio, e anche qualche altro perico, qualche altro lisir da qualche piccolo problema molto più secondario, che però hanno risolto, e vedere delle patch notes così lunghe, con così tanti dettagli, mi rende davvero veramente contento. Quindi ragazzi, sono veramente contento per queste patch notes, perché con tutte le cose che hanno sistemato o cambiato, che hanno promesso dopo tantissimi mesi, quindi sono d'accordo che molti si siano lamentati dell'attesa di diverse settimane, o anche di più per certi problemi, però alla fine finalmente li hanno sistemati, e queste patch non sono davvero lunghe come si deve, non ho ancora scaricato la patch, ma immagino sia come previsto i soliti 10-12 giga, quindi molto molto grossa, anche perché ci sono tipo, se non sbaglio, la playlist 24 set di Nuketown per molti giocatori, l'altra rotazione delle modalità per Blackout, quindi per tutti i giocatori hanno necessito di dare, facciamo, un colpo finale dopo un anno, nonostante adesso la concentrazione sia su Modern Warfare. Per chi sta ancora giocando Black Ops 4 ci sono dei grossissimi cambiamenti, i nuovi ricompensi da ottenere col mercato nero, 24-7 Nuketown per molti giocatori, immagino sia spettacolare, e comunque un po' di rotazione ancora a Blackout, che nonostante ci sia Call of Duty Mobile, rimane il Battle Royale un pochino più caldo, comunque più serio da poter giocare. Poi nei giocatori di zombie ci sono le solite ricompense, che sono le armi che vengono aggiunte, però come al solito dietro le riserve, però appunto i nuovi metodi per ottenerle, penso l'ultimissimo Gauntlet che vedremo su Black Ops 4, a meno che non verranno aggiunti altri hard come è stato fatto per Bojov di Sperma, lo vedo veramente dura, a meno che poi nel futuro non possano aggiungere altre mappe con il solito vociferato DLC 5 e zombie Chronicles 2, quindi vedere sia le mappe sia anche i Gauntlet sarebbe veramente bello, anche perché alla fine le solite 30 sfide, diciamo che sono sempre sulla stessa linea di difficoltà o linea di idee, quindi farne altre non penso sia così troppo complicato, almeno da ideare, poi come al solito da realizzare, non lo so immaginare quanto tempo ci vogliano, però per quanto riguarda tutti gli annunci fatti da 3H che sono stati risolti, tutto bene quello che finisce bene, fatemi sapere voi come al solito cosa ne pensate di tutti i cambiamenti che abbiamo visto, tutte le risoluzioni, i contenuti tra virgolette diciamo aggiuntivi con il prossimo mercato nero, che ci fornisce in realtà ricompense per molto tempo a venire, perché per chi fa ancora tutti gli skip può ottenere come al solito le riserve, che comunque possono dare oggetti duplicati o meno, o altrimenti ne accumuliamo addirittura 50, possiamo farci una Ultra Weapon Bride, come detto prima c'è magari alcune persone che hanno avuto più fortuna nelle riserve, ho fatto tutti i mercati neri come me che ne mancano soltanto di può, dovrebbero essere 2 o 3, quindi una volta completate quelle c'è soltanto da ottenere tutto il resto nelle riserve, che ci sono comunque ancora tantissimi tantissimi oggetti, e la sfortuna di avere sicuramente i duplicati o dover sbloccare ogni volta, cose sarebbero le mimetiche e tutti i dead effects e weapon charm, ma per tutte e tutte le armi richiede veramente tantissimi oggetti, non penso che ci sia magari nessuno che andrà a ottenere proprio tutto tutto quanto, però una riserva alla volta penso si possa fare. Spero come sempre ragazzi il video di oggi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Un abbraccio, ala.